Dobbiamo abbandonare la nostra presunzione e scegliere di saperne di più, perché solo la conoscenza può permetterci di sbagliare il meno possibile. Un principio sano in tutti i campi, ma ancora di più quando decidiamo di occupare con la nostra presenza impattante e umana un luogo che fino a poco prima era naturale. All'indomani del maltempo in Abruzzo e dei tanti danni che ha provocato, abbiamo ascoltato un esperto. Da un punto di vista geologico la Regione Abruzzo è una delle più belle a livello mondiale e a livello internazionale e vengono fatti studi di qualsiasi genere, perché abbiamo tutti i tipi di rischi e abbiamo tutti i tipi di risorse. Il problema è che noi dobbiamo conoscere bene il territorio, noi dobbiamo assolutamente costruire bene. Uno degli esercizi che facevo in aula con i ragazzi, proprio del corso di rilevamento geomorfologico, era proprio le gallerie che abbiamo visto ieri hanno avuto dei danni così importanti. Noi che ci fosse una falda acquifera, che ci fossero dei problemi, sono cose che possono essere evitate prima facendo un'ottima opera di mitigazione. Quindi se noi conosciamo bene il territorio, la parola imprevedibile possiamo toglierla dal nostro vocabolario di studiose del pieno da terra. Questo vale per qualsiasi cosa, per la costruzione di una scuola, per la costruzione di una università, per la costruzione di una galleria, di una strada o di un'autostrada, fino al più temute centrali nucleari. Quindi dipende dall'uomo o dipende dall'uomo che si va a inserire dove non dovrebbe? Dipende dall'uomo che si va a inserire dove non dovrebbe. Questo non significa che non possiamo costruire dove non si dovrebbe. Si può costruire, ma costruire bene. bene. Se facciamo un esempio su una zona franosa, si può anche costruire, ma bisogna superare il corpo di frana. È questo che noi non facciamo. Se noi, è come se il corpo di frana avesse uno spessore di 10-15 metri, dobbiamo fare delle fondazioni. Non è il mio campo, perché io sono geologo, però nel campo ingegneristico, nel campo delle costruzioni, bisogna fare dei fali più profondi per ancorare la struttura direttamente al terreno. Dobbiamo guardare il bacino etrografico, il sottobacino etrografico. Quindi per costruire bene in queste zone bisogna smaltire le acque, cioè fare delle canalizzazioni, fare delle opere corrette che vadano a portare l'acqua verso un fosso o verso un altro e non vadano verso l'abitazione, la scuola e così via. Noi dobbiamo fare delle grandi opere di mitigazione dei risti, mettendoci a tavolino tutti a livello interdisciplinare. Invece qui la mano destra non sa che fa la mano sinistra, l'indice non sa che cosa fa il pollice.